eravamo rimasti era partito in sordina questo libro del marchio invece sapete cosa mi dico è un piccolo gioiello di narrativa italiana magari certi passaggi non brilleranno proprio di originalità santa lucia tra i santi imboccati con maggior frequenza e fede nelle difficoltà quotidiane c'era sant'antonio sempre pronto a far ritrovare il portamonete le chiavi smarrite purché si recitasse il pater nostar doppio ripetendo pater nostar pater nostar qui es in ceni qui in ceni santificetur, santificetur, nomen lutum, nomen tum, fiat, fiat, voluntas, tua, volontas, tua, eccetera rita la santa delle cose impossibili aiutava i studenti agli esabbi per allontanare temporali e grandine il contadino recitava santa barbara e san simone libera e me dalla sita saetta e dal tonne contro il mal di denti operava attivamente a polonia la martire a cui ne furono strappati trentadue per il suo rifiuto di pronunciare la bestemmia il 3 febbraio i devoti in ginocchio baciavano una candela con la quale poi si toccavano la gola scongiurando tonsilliti e difteriti grazie alla protezione di Biagio, santo del giorno che aveva salvato un bambino così soffocato dalla risca di pesce questi erano santi diciamo terapeutici milizie celeste di pronto soccorso per l'evolucenza della salute e della vita Lucia invece presideva al voluttuario, al suo patro, cioè ai regali, ai giocattoli cose che talvolta sono più indispensabili delle necessarie e per i bambini lo sono sempre nei giorni precedenti, il 13 dicembre, festa di Santa Lucia i genitori, appartenere ai buoni figli, a tavola raccontavano con aree misteriose ieri ho incontrato il castaldo della Santa mi ha domandato di te se sei bravo, obbediente e gli ho risposto di sì allora mi ha promesso di parlarne con aree se continui a fare il bravo vedrai che ti porterà tutti i regali che desideri il castaldo, bel nome a Longobardo indicando un dignitario con funzione amministrativa per conto della rae era un personaggio di fiaba che ogni bambino immaginava in modo suo di solito come una sorta di mediatore munito di biroccio a terra a cielo che annotava sul suo taccuino i nomi dei bambini una pagina per i buoni e una per i cattivi riservandosi di trasferirli imparzialmente da una pagina all'altra secondo le informazioni dell'ultima ora confidando nelle poste italiane il bambino per maggior sicurezza scriveva una lettera alla Santa elencando per sa comodità i due anni desiderati assistita dalla mamma la quale prendendo da pretesto un errore d'ortografia santa lucia il diploma di maestro al guai se trovava un errore depennava a quelli più costosi la sera della vigilia si preparava sul tavolo della cucina un piatto di crusca per l'asinello che sarebbe arrivato a mezzanotte col caretto pieno di regali altri piatti prima dell'imbrunire venivano portati a casa dei nonni e degli altri parenti estretti senza lesinare la crusca perché quanto più durava la riflessione dell'asinello tanti più regali la santa aveva modo di scaricare mai come in quella occasione scusate i bimbi dispensavano ruffianeschi sorrisi ai parenti stretti e proporzionati alla consanguineità alla consanguineità scusate ai parenti larghi e larghissimi presso i quali sapevano senza chiedersi la ragione che il piatto di crusca avrebbe fruttato come negli anni precedenti al massimo un'arancia una stecca di mandorlato una stella di pasta frolla incipriata di zucchero vanigliato nemmeno si domandavano come avrebbe potuto all'asinello consumare in una sola notte migliaia di pasti i quintali di crusca ma le sarebbe scoppiato il ventre e come poteva il quadrupede sia pur magro scendere col caretto attraverso il cammino credo cuia absurdo ma da resta l'incrollabile fede nel miracolo aveva ricevuto preliminare alimento e conferma nelle sere del nove del 10 dell'undici quando il bimbo si avvicinava trepidante al cammino alzava gli occhi verso il nero imbuto della capa e gridava santa lucia momoni che nel dialetto dell'infanzia ben detto sono le caramelle e cioccolatine e quant'altro appartiene al delizioso regno dello zucchero struggenti dolcezze che l'infanzia abitamente immagazzina fosse per controbilanciare le future amarezze dell'età adulta lanciata un'invocazione il piccolo correva a nascondersi dietro la sottana della mamma ed attendeva col vetro sospeso finchè il rumore di qualche cosa caduta sulla pietra del cammino non gli annunciava che il miracolo si era compiuto la sera del 12 i bimbi andavano a letto prestissimo ranecchiandosi sotto le coperte e trasalendo al suono dei campanellini che i compagni più grandi e quelli che oramai sapevano che è santa lucia agitavano sotto casa simulando i sonali del sopraggiungente asinale stai sotto le coperte e non accendere la luce intimava la mamma altrimenti la santa ti getta il carbone negli occhi la metafisica minaccia consentiva agli adulti di trafficare senza rischio di essere scoperti e slegare nell'attivo tinello, così si chiamava il soggiorno pacchi e pacchetti provare la mola dell'auto rossa dei pompieri lo è o è dalla bambola rovesciata all'indietro pregustandolo al giochi con cui alle luci dell'alba la bimba avrebbe abbracciato la puva lungamente sognata ambitissima la bambola lince e il piccolo sarebbe balzato come un Napoleone sul caballadondolo felici bambini e ancora più felici genitori che rivivevano nel candore e nello stupore dei figli alla loro infanzia lontana il regalo più diffuso era anche il meno costoso, una palla a spicchi colorati di cui facevano le spese i vetri del quartiere il benessere attuale ha ridimensionato il mito di Santa Lucina oggi è saliva così tutti i giorni anche per gli adulti ma in quegli anni agri non era raro il caso di fidanzati poverissimi che il 12 dicembre scocitavano con lo strazio nel cuore un pretasto di litigio per poi riconciliarsi il 14 oggi è improbabile che un bambino scriva una lettera del seguente tenore cara Santa Lucetta ti prego di portarmi bei i giocattoli per esempio il trenino elettrico, non portarmi le salte e calze di lana quelle me le può comprare alla mamma era proprio la Santa Cecca, alla lettera, alla lettera di fatti le erano stati cavati gli occhi essendosi rifiutata di sacrificare lì dei pagani Cecca e classista portavano i ben di Dio ai figli dei benestanti il monopattino e il meccano ai poveri una trombetta di legno più un paio di mandarini, non uccidatteri ghiettonerie inconsuete che erano accolte con giubilo nelle case dei poveri basta poco per creare l'abbondanza naturalmente questi venivano a conoscere l'addoluto interverità molto prima degli altri e si vendicavano della perduta innocenza seminando nei privilegiati ed è abbastante seme del dubbio e se qualcuno per tardo comprendono o per calcolo astuto osava resistere lo derivavano pubblicamente magari davanti alla signora maestro è il credo ancora a Santa Lucia come per dire è un cretino poi glielo ripetevano in rima Santa Lucia vien da notte con le scarpe tutte rotte col ciappello e la romana Santa Lucia letto mamma musica rivelazione un alunno di tazza elementare mortificato per l'ingrano subito per tanti anni e nello stesso tempo dispiaciuto per non poterlo subire più scresse sul diario appena sepi che Santa Lucia era mia mamma l'avrei presa a pugni mia mamma non potendo prendere a pugni Santa Lucia il 13 dicembre le scuole non fanno vacanza per tante feste che sono state inventate non si capisce perché non se ne istituisca una per i bambini il 13 dicembre festa nazionale del gioco oppure la regionale visto che da noi i regali arrivano le ammacchie di leopardo in una regione con Babbo Natale e in un'altra con la Befana il primo maggio fasse del lavoro tutti a casa ma ai bambini il lavoro non interessa un fico secco loro preferirebbero far vacanze per Santa Lucia giornata del giocatore del gioco e anche il primo maggio